Faber, allora siamo arrivati a 50 anni? 50 e non crederci, il tempo vola, è un modo di dire ma vi assicuro, casi cari quarantenni o peggio ancora trentenni quando ti ritrovi a 50 neanche te ne accorgi Ecco Faber, hai organizzato una super festa qua a Leaver stasera ma perché c'è un lavoro che tu fai tutte le settimane, tutto l'anno? Noi siamo qua da tre anni, ogni venerdì, ogni sabato a fare un revival c'è Double Faber, il Vox, il Vintage Radio, c'è Marco Trani che era il mio antagonista simpaticamente dicendo, negli anni 80 e poi tanti e tanti personaggi ogni venerdì e sabato a Leaver vicino alla piramide facciamo revival 70, 80 e un po' anche di 90 ed è pieno così, bella gente, ci si diverte come pazzi Allora adesso noi ci andiamo a divertire alla festa di Faber Cucchetti tanti auguri per il tuo mezzo secolo e al prossimo mezzo secolo sempre in discoteca, ciao Faber